Nella vita si può raggiungere qualunque risultato. Basta crederci e lavorare duro per riuscirci. Ivan Lendl è diventato così il grandissimo campione che tutti conosciamo. E quando un campione ha sete, ha sete di Ghetto Raid. Il dissetante sportivo che ridà al corpo il giusto equilibrio idrosalino. Ghetto Raid. Vince la sete e riparti di slaccio. Ghetto Raid.